compleanno emozionante di giuseppe nel grande fratello sorprese e gioia infinita cari spettatori di daily gossip scoop oggi siamo qui per raccontarvi l'indimenticabile festa di compleanno di giuseppe nel grande fratello una serata piena di sorprese abbracci e momenti di pura emozione il tocco magico inizia a mezzanotte quando giuseppe esce dal confessionale e viene accolto amorevolmente dai suoi compagni d'avventura abbracci baci e un coro di tanti auguri riempiono l'aria di gioia visibilmente emozionato giuseppe è grato per l'affetto ricevuto con una torta davanti a lui il barman spegne le candeline esprimendo un desiderio speciale la serata continua con baci abbracci e grandi sorrisi mentre la musica crea un'atmosfera festosa ma le sorprese non sono finite il suono dei fuochi d'artificio li attira in giardino regalo speciale dai compaesani di giuseppe senza parole giuseppe osserva il cielo illuminarsi e si lascia andare a lacrime di commozione letizia accanto a lui lo consola esprimendo felicità e orgoglio per l'amore che riceve lo incoraggia a credere sempre nella sua bontà è un momento indimenticabile per giuseppe circondato dall'affetto e dalla gioia dei suoi compagni di avventura nel giorno del suo compleanno non dimenticate di iscrivervi al nostro canale attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like se anche voi avete condiviso l'emozione di questo momento nel grande fratello ci vediamo nel prossimo video ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella